bene ragazzi bentornati su real napoli e football dal vostro vice football ragazzi innanzitutto se ci siete vi chiedo di lasciare un mi piace magari iscrivervi al mio canale per supportarmi in questa fantastica scalata che stiamo provando a fare con solo giocatori del napoli reale e in questa puntata scalata la divisione 1 chiaramente in questa puntata andiamo a giocarci la terza partita della divisione 4 la terza partita della divisione 4 è stato un percorso fino ad ora abbiamo fatto solo due partite un po' altanerante la prima partita è giocata molto male col Bayern persa 2 a 0 in cui l'avversario è andato fortissimo mentre l'ultima partita con l'inter l'abbiamo giocata nettamente meglio ma abbiamo rischiato di prendere il pareggio nel finale ma fortunatamente ce la siamo portata a casa dopo nonostante aver preso il primo gol dall'interno nei primi due minuti poi abbiamo ribattato il risultato con un paio di magie ragazzi e ci siamo portati a casa adesso abbiamo napoli real madrid e questo tiene scritto ragazzi best team real madrid quindi chi cazzo tiene questo in squadra certo famecano non mi sembra proprio best team real madrid è chiaro però vediamo vediamo intanto i nostri ragazzi stanno tutti bene tranne il maestro che sta di merda e facciamo giocare matthias olivera il resto è ok volevo vedere gli avversari dell'ofeolo autaro non mi sembra proprio best real madrid o è io onestamente non mi sembra proprio best real madrid ma in ogni caso in ogni caso bene è resuscitato probabilmente oppure finito il tempo di vendere punti di vista e forse ci fa iniziare questa partita napoli real madrid napoli best team real madrid bene vediamo cosa riusciamo a fare ragazzi si parte muoviamo il primo pallone lo botca di lorenzo attenzione pressano alto loro lo bo ancora provano andare da osimena proviamo a velocizzare il gioco attenzione brandissima palla che arriva a caraschela caraschela che crossa di esterno c'è osimena che non riesce a buttarla dentro tensione a chissà caraschela al crotiro al crotiro al crotiro il crotiro il tuo robot la prova a svettare zielischi palla per il ciocchi lo zano che si gira fermato il ciocchi senza fallo dice l'arbitro bene così e poi di lorenzo break di giannino fantastico giannino che poi prova ad andare direttamente da osimena l'idea non malvagia e l'avevo visto olivera prova a chiudere grandissimo zan chissà poi caraschela dentro per olivera che prova ad andare da osimena che non riesce ad anticipare upa meccano se zielischi break di zero centrocampo palla per caraschela la reda zielischi che poi vede osimena l'ha parata di kurtowa furtua furtua purtua così proprio brutto paolo zielischi che prova ad andare da osimena o da chi non è riuscita non ha suon bambino eterna come faceva a saperlo Zirisky attenzione Zirisky provano ad andare da Karaskelia ma incredibile questo mette il portiere là fuori Kim palla per Anghissa dentro per lo Botka Zirisky Karaskelia entra in area di rigore fermato miracolosamente dal difensore Olivera prova a recuperare non ci riesce attenzione attacca al Real Meret chiude tutto proviamo ad andare lunghi subito con Meret che era verso Simen Zirisky appoggia per Karaskelia che prova a far correre poi Zirisky ci riesce Zirisky ecco lo Zirisky cross di Zirisky Simen riesce a spizzarla ed è il calcio di rinvio ci abbiamo provato attenzione che cortoava corto eh attenzione Zirisky Olivera prova a chiudere Olivera fantastica chiusura Karaskelia eh vero Anghissa Osimen si gira e prova ad andare largo molto male però molto male Anghissa Lobotka Giannino no Rachmani però si mette in traiettoria poi palla per Anghissa allarga per Lozano la palla finisce poi da Anghissa invece no recupera la palla Real Lobotka però riprende palla per Karaskelia che prova a far correre Osimen Osimen in profondità fermato recupera palla Osimen rifermato da Skrini voleva andare al tiro subito Olivera bravissimo Zirisky Anghissa Kvara Skhelya dribbling di Kvara dentro per Anghissa che provano ad arrivare al cross troppo sul portiere lo sto a provare a rimettere palla in gioco subito ci riesce attenzione Kim fantastico Anghissa Kvara Skhelya appoggia dentro per Anghissa che gliela ridà ancora Kvara dribbling di Kvara se ne va Kvara grandissimo Kvara Skhelya attenzione Kvara Skhelya vede il ciuchilo Zano dentro che palla mette dentro si è capito un cazzo la palla arriva ad Anghissa che però è in fuorigioco 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 o giochi fuori è uguale intanto Dio Pane attenzione Kim brutta palla di Kim adesso deve andare a chiudere lo bot che la mette fuori Osimena per Anghissa attenzione Anghissa Anghissa scende Anghissa non abbiamo un passaggio per Di Lorenzo qui Di Lorenzo cambia tutto verso qui c'è Kvara Skhelya Kvara Skhelya dentro Olivera dentro per Kvara Skhelya eccolo Kvara Skhelya la parata di Courtoare calcio d'angolo calcio d'angolo il portiere è rimasto lucido e reggito bene terzo tiro dalla bandierina per loro attenzione Zirisky cross in mezzo Osimena corto apro a mettersela in porta da solo Zirisky ancora c'è Lozano non ci riesce se la cavano ancora una volta qui molto tranquillamente trova a chiudere Lobo attenzione contropiede con Neymar e chiude Meret fantastico che cazzo fa vabbè Lobo mamma mia Olivera Zirisky triangolo pazzesco per Kvara Skhelya che vede Anghissà prova a ridare la Kvara Skhelya la palla arriva a Kvara che cross e mezzo ma non arriva dall'altro lato Osimena che poi ovviamente la mette fuori mannaccio stiamo stiamo giocando bene ma pecchiamo un po' di precisione e cazzi vari ah Ressinga quasi riuscito poi attenzione Olivera ancora Kvara Skhelya prova il Dreaming fermato Kvara senza fallo grandissimo Kim anche se Kim palla per Olivera qui Olivera prova ad appoggiarla Zirisky che sbaglia finisce il primo tempo questo se fine primo tempo 0 a 0 contro il Real abbiamo giocato bene ma 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 si riparte Kim palla arriva Meret che spazza mamma mia la palla arriva Osimane che spizza la grande verso Kvara Skhelya che non riesce ad impattare col pallone Rachmani chiude Rachmani fantastica chiusura di Rachmani Osimane Anghissa 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 dentro per Osimane Riesce ad allargare verso Kvara Skhelya che la dà dentro per Zirisky fermato Zielo attenzione non ci credo di Ocane bastardo non ci credo non ci credo non ci credo che cazzo abbiamo combinato Simen però non andare a disturbare Courtois non ci riesce qua Riesce Kvara Skhelya peccato non so perché Kvara non ha tirato di prima che ho premuto quadrato ma comunque riuscita attenzione Zani Olo Olivera erroraccio di Olivera qui mamma mia mamma mia mamma mia c'ho Cancelo c'è Rachmane che la mette fuori e poi Kvara Skhelya deve spazzare praticamente attenzione dobbiamo mettere palla fuori Zielisky Kvara Skhelya Zielisky Anghissà Lobotka prova ad allargare verso il Chuchi Lozano che ha molto spazio il Chuchi prova ad andarsi nel Chuchi Lozano Lozano cross di Lozano arriva Courtois Zielisky e poi niente da fare ancora di Lorenzo ferma tutto ferma Neymar col fallo attendiamo Ivano Perisic Ivano Perisic Maronna Olivera che sta giocando una gran partita fino ad ora e poi Kim ancora larga verso Kvara Skhelya fermato senza pala io questi per me sono falli sono proprio falli Lobotka ricopre la palla Lobotka larga per Skhelya sulla fascia se ne va Skhelya se ne va Skhelya se ne va Skhelya prova ad arrivare al cross non ci riesce guadagniamo calcio d'angolo devo capire com'è girare questo fatto Sienischi cross in mezzo di Lorenzo attenzione Kvara Skhelya Lobotka ma che cazzo gli valla ha perso Lobo non ci credo non ci credo non ci credo è un contropiede di merda abbiamo preso Lobotka proviamo a reagire subito Lobo palla verso il ciocchi Lozano Lozano prova a fermarsi Lozano viene fermato invece dal difensore attenzione ovviamente fallo di Anghissà regola del vantaggio attenzione Kim prova ad uscire ma un po' precipitosamente Olivera recupera palla prova a darla subito a Kvara Skhelya che però la aspetta al bar la palla ma porco Dio ma come fai ad aspettarla così tanto attenzione Kim ovviamente non la prende porca puttana troia si tengono il calcio d'angolo ah no molto male voglio molto molto male ma sai che ti dico ti metto un po' raspatori e posso provare i dischi diciamo così ma sta terra no 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 va bene vai vai proviamo proviamo a raspatori al posto di Zieli 4-2-4 proprio lui prova a dare a colpire niente da fare chissà però non recupera palla Rakamani Kim palla per Lobot che non riesce a fare un cazzo Olivera prova ad allargare per Criscia Kovaraschelia che prova a cambiare tutto c'è proprio Raspadori che non riesce a girarle addirittura il Real Madrid va di contropiede incredibile recupera palla Rakamani che poi la la dà al Ciuchilozzano Ranghissa Raspadori Osimena larga poi verso Kovaraschelia con un po' di campo Kovaraschelia il cross di Kovaraschelia c'è proprio Raspadori che non riesce ad arrivare ad impattare il pallone Rakamani palla per il Ciuchilozzano dentro proprio per Rakamani che si gira Rakamani dentro palla pazzesca per Kovaraschelia è qua vuol dire proprio che è già a perdere perché se non segno lì ragazzi cioè non posso non segnare lì Lobotka di Lorenzo Lozano attenzione Lobotka provare ad andare dentro da Osimena niente da fare anch'essa come si fa vai anch'essa provare ad allargare subito per Kovaraschelia che prende palla pensavo fosse persa oggi sono sincero Kovaraschelia vede dentro Raspadori la palla non ci arriva Raspadori attenzione Olivera niente da fare Anghissà 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 dentro la palla per Raspadori Maru attenzione palla recuperata dentro Raspadori vaffanculo Raspadori proprio tui vaffanculo 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 proprio di perdere non meritavamo vaffanculo dopo sette tiri mi andate a cagare stavo pure per vincere Raspadori Raspadori